Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Lost Music, il programma con la musica più bella di sempre. Applausi per cominciare questa domenica milanese, abbiamo salutato la settimana sanremese, ma tranquilli perché continueremo ad ascoltare e a parlare degli artisti che durante la settimana di Sanremo ci hanno fatto innamorare dei loro brani, delle loro performance e anche un po' della loro anima perché ci hanno raccontato un sacco di cose. Oggi però vorrei raccontare la storia e il brano di questa artista fenomenale, lei Dua Lipa, il brano che ascolteremo in apertura della nostra puntata si chiama Training Season. E' il suo secondo singolo estratto dal suo terzo album, è un successo dopo l'altro, tra l'altro lei la vediamo anche nei panni di attrice, nel nuovo film di spionaggio che starà al cinema. E' un debutto, un dibattito, un debutto imminente, tra l'altro lei ha tantissime candidature ai Grammy Awards e anche quest'anno una nomination veramente importante il 2 marzo a Londra. Ma prima di cominciare è doveroso ringraziare il mio driver Danilo che mi ha accompagnato in radio perché senza di lui io non sarei qui oggi e non avrei fatto questa puntata di Love's Music. Per cui ragazzi si prospetta veramente una puntata folle, ricca ricca di musica, mandatemi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e adesso balliamo con Dua Lipa.